Salve a tutti da Pazzo Simpatico, ci troviamo sulla montagna con il nostro motorino con gli adesivi e scenderemo da qua, noi siamo andati a fare un giretto qua, vedete la zona estera ancora le strisce Aspettate Solo a motore acceso possiamo scendere, cioè scendiamo noi Aspettate 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 Grazie a tutti. 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 Un bacione da pazzo simpatico.